Il segreto, prossima settimana, un gesto coraggioso Il segreto va in onda dall'onedì al venerdì pomeriggio su Canale 5. Le anticipazioni del segreto della prossima settimana svelano che l'arrivo di Julieta sconvolgerà Puente Vino. La piccola Belen è riuscita a conquistare sia Hernando che Beatriz. Camila deve lasciare andare via la bambina che ha cresciuto come fosse sua. La zia Dionisia è arrivata nella cittadina spagnola per riportarla a Cuba. Marcella, rimasta coinvolta in un grave incidente, viene ritrovata viva ma in gravi condizioni. Mattia si sente in colpa, Beatriz rimane quasi indifferente. Gracia vende la pasticceria a Severo. Donna Francisca è preoccupata per la salute di Saule Prudencio, i due fratelli che le hanno salvato la vita. Emilia e Alfonso scoprono che suo figlio e Beatriz si vedono di nascosto e lo rimproverano duramente. Prudencio è abbagliato dalla ricchezza della casona mentre Saul vorrebbe togliere il disturbo al più presto. Nicolas lascia la piccola Ioannita nella carrozzina. Un camion in corsa rischia di prenderla in pieno ma il gesto coraggioso di Giulietta evita il peggio. Nicolas ringrazia la giovane che va via senza presentarsi. Prudencio vuole aiutare Francesca, Saul si riprende rapidamente. Camilla ed Hernando hanno ritrovato la complicità di un tempo. Il segreto, trame 5 e 9 marzo, lo scontro tra Giulietta e Francesca. Le anticipazioni del segreto dal 5 al 9 marzo svelano che Mattias non sembrerà disposto a chiudere la relazione con Beatriz nonostante la delusione dei genitori. Prudencio si rivela un ottimo braccio destro per la Montenegro. La Meggera decide di far diventare Nazaria la nuova governante della casona. Che fine farà Fe? Mattias rivela a Beatriz che i suoi genitori sanno della loro relazione clandestina, poi va a trovare Marcela. Le notizie sulle sue condizioni di salute non sono confortanti, così Mattias le fa una promessa, se si salverà la mera per il resto dei suoi giorni e chiuderà la relazione con la giovane Dos Casas. Aquilino incontra Beatriz e la riempie di complimenti. Qual è il suo vero scopo? Le differenze tra Saul e Prudencio sono sempre più evidenti. Francesca si sta affezionando molto a loro. Hernando e Camila cercano di soddisfare le richieste del loro nuovo socio. Francesca, in piazza, scambia Anna, la figlia di Giulietta, per una mendicante e le offre qualche spicciolo. Giulietta rifiuta l'elemosina e spiega a Francesca di non avere bisogno della sua carità. Chi è davvero Nazaria? I dubbi sul suo conto tormentano Maurizio. L'appuntamento con Il Segreto è da lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5.